La posizione è strategica e consente di avere una visione di insieme, un osservatorio su Piazza Vittorio Veneto e dunque sulla stazione, su Viale 24 Maggio e sul Terminal. La nuova postazione fissa della Polizia Municipale nel quartiere Ferrovia potenzia il presidio di una zona sensibile della città. Alla cerimonia di inaugurazione ci sono comitati, associazioni e movimenti che hanno fatto pressing, come l'Adqua, l'Associazione dei Consumatori di Walter Mancini, gli Amici del Viale e i Leghisti al Comune. Le telecamere all'interno della struttura saranno presto automatizzate attraverso il controllo da remoto e l'attività sanzionatoria per il momento sarà attiva solo in presenza degli operatori. Non sarà facile far quadrare i turni, considerata la carenza endemica di personale. Avevamo preso questo impegno in campagna elettorale, quindi penso si stanno tramutando dalle parole ai fatti. Vedremo se riusciremo a garantire H24 perché siamo in procedura di predissenso e quindi non abbiamo la forza economica di garantire il servizio H24 e lo garantiamo solo e esclusivamente per gli interventi immediati con una pattuglia che corre durante tutta la notte. Io penso che il fenomeno qui è più intenso non tanto la notte ma soprattutto il giorno con situazioni di degrado, situazioni di illegalità diffusa e quindi questo presidio pone un occhio attento su questo quartiere. Potremo presidiare questa postazione fissa nei due turni di servizio e ci consentirà anche, grazie agli strumenti tecnologici che vedete e che entreranno in funzione già dalla prossima settimana, anche un'efficace attività di controllo del traffico e del rispetto delle norme del codice della strada. Ci spiega meglio come funziona? Come funziona automaticamente? L'apparecchiatura rileva la targa del veicolo che è in transito e rileva in automatico se quella targa risulta essere la copertura assicurativa e se il veicolo è stato sottoposto a revisione. In automatico ce lo dà e quindi ci stampa se manca la copertura assicurativa o manca ci dà questo input e noi attiviamo tutte le verbalizzazioni previste dal codice della strada. I nostri turni li moduleremo e li calibreremo secondo le effettive esigenze della zona, quindi noi potremo garantire la mattina sicuramente la fascia pomeridiana serale seguirà l'andamento che ci verrà consigliato dall'evolversi della situazione. Noi abbiamo lottato moltissimo per avere questo strumento perché sicuramente una presenza fissa di un posto di polizia locale certamente crea dei problemi a chi ha intenzione di comportarsi in maniera poco corretta e non seguendo le norme. Questo è il primo ma ce ne saranno altri due, uno sarà messo vicino alla villa e uno più oltre. Quindi una città che viene, si comincia ad attenzionare. La coperta è sempre troppo corta, i vigili sono pochi e molti sono part time. Purtroppo sì, oltre a una grave carenza in pianta organica noi dovremmo essere 350 per legge, invece di fatto ne siamo 170 all'incirca. C'è anche la questione che 46 di questi 170 sono ancora a tempo parziale, a part time. Lavorano 30 ore settimane anziché 30-36. Questo ci procura non poche difficoltà. Il possible peso non moito quindi a sustainability è stille aURS, purtroppo sì, non può che ho già correttato.